Stasera ero in un ristorante a cenare, al Black Marlin qui di Saranda, dove si mangia molto bene e non è caro proprio per niente e stavo ordinando le mie cose e a un tavolo, alla fila a fianco al mio, un po' più avanti, lui e lei, due tamarri che la metà bastava lei, e visto, fa più pesce, l'ha già conosciuto immediatamente, sta lui solo, ma da là, mangi se solo, che tristezza che poi, lo dici in napoletano come se io fossi veronese e non ti capissi, cioè, tu parli in napoletano con il tuo fidanzato convinta del fatto che io non ti senta o che io non ti capisca, sono lì a un tavolo di distanza, sono napoletano anch'io lo capirò quello che dici, anche se il tuo non è napoletano e napolegno, ma ormai sono abituato, lo capisco lo stesso cioè lei, come dire, aveva da dire sul fatto che io cenassi da solo, la riteneva una cosa orribile lui e lei, che immediatamente dopo aver ordinato, prendono il cellulare uno di qua e l'altra di là, tutta la cena così, poi lo posavano, mangiavano senza dirsi una parola poi riprendevano il cellulare e si rammaricava del fatto che io stessi mangiando da solo no, perché loro erano in compagnia